ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale allora oggi sono come cerco di fare quando posso in mezzo alla natura passeggiare con mio cane charlie e voglio parlarvi di una volpe una volpe che qualche giorno fa secondo il racconto che mi ha fatto una cara signora che conosco ha ucciso le galline e un gallo che si trovavano all'interno di un pollaio ora la cosa mi è dispiaciuta naturalmente io amo tantissimo la natura amo tantissimo gli animali come sapete amo tutto ciò che fa parte della natura però per esempio non riesco a guardare le scene di predazione degli animali in televisione se ce n'è una e vedo che un animale sta per essere predato da un altro cambio canale perché mi fa male vedere quelle cose mi dispiace come si collega il discorso della volpe che ha predato le galline le povere galline il gallo nel pollaio con chiara ferragni beh ovviamente il collegamento tra persone ed animali il fatto di paragonare gli esseri umani agli animali è antichissimo lo vediamo nelle favole di esopo per esempio ma questa è una cosa che l'uomo ha sempre fatto e la signora ferragni si può tranquillamente paragonare ad una volta e sarebbe stata paragonata ad una volta e cioè ad un animale che si ritiene molto furbo molto scaltro sapete tutti la storia o penso che molti di voi almeno sapranno la storia dei dei pandori panettoni non so bene uova di pasqua venduti a tre quattro volte il prezzo normale con il pretesto di fare beneficenza e poi questa beneficenza tra l'altro destinata a dei bambini che soffrono moltissimo che avrebbe dovuto essere destinata a dei bambini che soffrono moltissimo la signora chiara ferragni a quanto pare non l'ha mai fatta ora il mondo è pieno di porcherie di schifezze e quindi purtroppo dico purtroppo ovviamente questa innesima schifezza e porcheria non mi non mi sorprende diciamo più di tanto si va va solo ad assommarsi alle altre schifezze e porcherie che accadono in questo mondo malato malato per colpa dell'uomo non per colpa del mondo o degli animali che lo abitano ma per colpa dell'uomo però vorrei fare una considerazione in questo video che spero non vi annoierà e sarà breve ve lo prometto non c'è mai stata nessuna volpe che dopo essere entrata in un pollaio ed aver ucciso tutti gli esseri viventi che si trovavano all'interno pulcini galline galli si sia poi messo a piangere abbia mai fatto un video dove piagnucolando ha cercato di spacciare la cosa come se fosse un errore di comunicazione cosa che invece ha fatto la signora chiara ferragni e io penso che questa cosa dovrebbe farci riflettere farci riflettere su quello che è l'onestà del mondo degli animali l'onestà del mondo naturale il quale non cela quelli che sono mai non cela mai non nasconde mai quelli che sono i suoi istinti quelle che sono anche le schifezze che avvengono dal nostro punto di vista ovviamente perché dal punto di vista degli animali si tratta semplicemente di istinto ma dal nostro punto di vista possiamo considerarli degli atti efferrati come quello appunto di una volta che uccide così arbitrariamente e senza nessun bisogno tutte le galline di un pollaio bene il mondo naturale non nasconde mai almeno diciamo al pregio di non nascondere mai queste cose mentre invece nel mondo degli umani si cerca di spacciare azioni che sono moralmente molto riprorevoli molto riprorevoli perché guadagnare soldi su una presunta beneficenza che poi oltretutto non viene neanche fatta è veramente un'azione tra le più tra le più come vogliamo dire schifose ecco che un essere umano possa compiere a mio parere ma il mondo naturale non ce l'ha mai quella che è la sua verità mentre invece noi umani noi umani spesso cerchiamo di far passare le porcherie che facciamo per degli errori di comunicazione nascondendo il tutto dietro qualche lacrimuccia dietro un viso struccato come nel caso della signora ferragni dietro una piccola recita che serve solo ed unicamente a cercare di salvare la propria immagine se ancora c'è qualcosa da salvare nel caso della signora ferragni e comunque in ogni caso cercando di catturare nuovamente la benevolenza e quindi l'attenzione dei followers bene nessuna volta ha mai fatto questo si dice che i coccodrilli piangano lacrime di ipocrisia bene i coccodrilli ovviamente non piangono nessuna lacrima di ipocrisia se mangiano un altro animale lo mangiano e festa finita le lacrime che vediamo scorrere dai loro occhi in realtà non sono altro che diciamo uno spurgo diciamo così di sali che che devono devono uscire dai loro dotti lacrimali ma non c'entra niente con l'ipocrisia del dispiacersi perciò che hanno fatto questa cosa invece la vediamo negli umani e questa io penso che sia una differenza fondamentale il prendersi la responsabilità volenti o nolenti delle azioni che abbiamo fatto e anche delle brutte azioni che abbiamo fatto per cui chiudendo questo questo breve video io credo che la signora ferragni e al suo posto avrei fatto così sarebbe stata molto più onesta se avesse ammesso il proprio errore punto e basta senza lacrimucce senza aspetto dimesso come se fosse una casalinga qualsiasi mentre invece è una milionaria multimilionaria senza voce fintamente rotta dall'emozione avesse detto ho compiuto un grosso errore non lo farò più basta bene questo è la fine del mio video ricordiamoci tutti che nessuna volpe ha mai predato un un pollaio e poi ha fatto un video nel quale cercava di giustificarsi ipocritamente del proprio gesto almeno questo cerchiamo di impararlo dagli animali a presto un caro saluto ciao